Buonasera a tutti, grazie di essere così numerosi, ci speravamo ed è bello vedervi così in tanto. Sordi Segreto, che è il nuovo numero della nostra rivista del Centro Sperimentale edita insieme a Edizioni Sabine, curato da Alberto Anile, che è qua, in collaborazione con la Fondazione Museo Alberto Sordi, qui rappresentata dal Presidente Onorario Walter Veltroni, che è qui anche come grande amico personale di Alberto Sordi, esattamente come grande amico di Alberto Sordi è Carlo Verdone, oltre che membro del CDA del Centro Sperimentale di Cinematografia, e poi il Presidente del Centro Sperimentale, Felice Laudadio. Avete appena visto Fumo di Londra, per il cui restauro ringrazio l'Augusto Scolor e gli aventi diritto, credo che Lorena Libassi sia qui da qualche parte, e la ringraziamo, e il signor Pelliccia anche. Dopo, se vorrete, potrete fermarvi a vedere Il Medico della Mutua, che è un restauro realizzato dal Centro Sperimentale Cineteca Nazionale, con le donazioni dei cittadini, giusto Felice? Sì, con il crowdfunding, quindi è un film restaurato idealmente da voi, ecco, da tutte le persone che amano Alberto Sordi. Io bando agli indugi, do immediatamente la parola al Presidente Felice Laudadio. Grazie Alberto. Buonasera a tutti, grazie di essere qui con noi, come sempre così numerosi per le iniziative del Centro Sperimentale, ospitate dalla Casa del Cinema, che ringraziamo, nella persona del suo direttore Giorgio Cosetti, che è lì, come sempre, appollaiato a controllare la situazione. Grazie Giorgio. Un compito essenziale, ma brevissimo, è quello di introdurre il numero della rivista Bianca e Nero, che, se volete, è in distribuzione all'esterno della sala, molti del pubblico presente non l'hanno ancora visto esposto perché sono entrati per la proiezione precedente. Un numero piuttosto importante perché si basa fondamentalmente sull'immenso giacimento del fondo Alberto Sordi depositato dalla Fondazione Museo Sordi, di cui appunto Walter Veltroni è il presidente onorario e che è presieduto da un grande magistrato, ormai in pensione, Italo Ormanni, che avremmo voluto avere con noi stasera ma gli era impossibile. Questo fondo enorme rappresenta, costituito da 20.000 pezzi diversi di tutti i tipi, dai film, naturalmente, che Sordi conservava di tutte le sue opere fin dalla prima volta, anzi metteva in contratto che aveva diritto ad avere una copia del film personale. E ha raccolto, nel corso di 50 anni di attività, ha raccolto i film, le sceneggiature, i materiali stampa, gli oggetti e tutto quello che poteva. Insomma, in sostanza, 20.000 pezzi diversi di tutti i tipi che sono stati analizzati con molta cura dal personale del Centro Sperimentale che ha creato una prima base di ricognizione di questi materiali su cui poi ha lavorato Alberto Anile, storico del cinema, giornalista e cultore del cinema italiano e in particolare del cinema di Alberto Sordi, ma non solo. Il numero ha dei pezzi pregevoli, direi che sono tutti molto importanti e quando, come qualcuno mi chiedeva, prima di entrare, perché Sordi segreto? Beh, perché ci sono delle scoperte straordinarie. Ci sono, per esempio, un numero consistente di sceneggiature, di film mai realizzati da Sordi, non arrivati alla produzione, che sarebbero stati, se fossero stati realizzati, sicuramente una sorpresa straordinaria, anche perché alcuni di questi hanno delle tematiche apparentemente lontanissime dal cinema di Sordi e prima e dopo questi titoli a cui accenno. Per esempio, il personaggio di Henry Kissinger, segretario di Stato americano, che Sordi ha letteralmente, come dire, clonato, si è trasformato, ci sono delle fotografie inedite molto belle, e Luca Martera, che ha curato in particolare l'analisi della sceneggiatura di Kissinger. Ringrazio a proposito, ringrazio Martera, e tutti gli autori ce ne sono anche qui presenti con noi stasera, chi ha collaborato a questo numero. Così come, ma di questo parlerà Anile, il curatore dell'intera rassegna, ci sono una serie di interventi che sono fondati proprio sui materiali inediti che abbiamo ritrovato in questo fondo Sordi. Altro personaggio che avrebbe voluto interpretare, ma già sapeva che sarebbe stato difficilissimo, e chissà che cosa avrebbe fatto, era Mussolini. Sordi voleva fare Mussolini. Un terzo personaggio, questa volta ricavato da uno dei grandi classici capolavori della letteratura di tutti i tempi, il Don Quixote di Cervantes, avrebbe voluto, ma non si è realizzato neanche questo progetto, interpretare il ruolo di Sancho Panza avendo come partner Vittorio Gasman nel ruolo di Don Quixote. Questo è un progetto peraltro che è stato molto amato anche da altri attori. Io ricordo le belle discussioni di cui si è anche scritto tra Giammaria Volontè nei panni di Don Quixote e Paolo Villaggio in quelli di Sancho Panza. Delle coppie straordinarie. Anche questo film non è mai arrivato alla realizzazione. Però è interessante. E poi c'è ancora un'altra scoperta fatta nel fondo, un altro Sordi segreto, che la sceneggiatura è tutto, anzi, più che la sceneggiatura, il tanto lavoro di scrittura fatto direttamente da Sordi, ovviamente con la collaborazione del suo amico e sodale, complice sceneggiatore pressoché di tutti i suoi film, e comunque di tutti i grandi film della storia di Alberto Sordi al cinema, Rodolfo Sonego, dedicato al Brasile. Era un film sul Brasile. Abbiamo trovato anche nei fondi depositati presso la Cineteca Nazionale, il centro sperimentale di cinematografia, 109 minuti di materiali cinematografici, un film sostanzialmente che è stato girato. Non sappiamo da chi, come operatore, ma al seguito di Sordi, che ha voluto riprendere tutte le possibili location del suo film Un italiano in Brasile, che è stato per molti anni una sorta di ossessione per Alberto. Avrebbe voluto realizzarlo, ha fatto più viaggi, in maniera spesso avventurosa, in nave ci andava, e racconta, in questi materiali che sono stati poi messi insieme, ricavandoli dagli archivi, racconta di quest'altra straordinaria avventura esotica che avrebbe voluto. Era un po' un'idea che tra l'altro si ritrova proprio in fumo di Londra, finché avete visto, cioè andare a cercare, quasi fosse una sorta di antropologo, usi e costumi delle popolazioni del mondo, in questo caso quella inglese, come avete visto, e quell'altra brasiliana. Ci sono scene in questi materiali del Carnevale, perché la storia era ambientata intorno al Carnevale. Insomma, c'è una quantità impressionante di materiali che permetterebbero di pubblicare ancora un paio, se si volesse, di volumi come questo dedicato a Sordi. Anile parlerà anche di questo sputare sul pubblico il titolo che abbiamo dato al suo saggio, Sordi contro lo spettatore fuori e dentro il film, che è un racconto abbastanza, tutti voi conoscete la celebre battuta Lavoratori del film di Fellini, così come conoscete la battuta Io so io, voi non siete un cazzo del film di Monicelli, il Marchese del Grillo. E c'è una lettura di questa sua maniera di essere contro, di un autore particolarmente attento al suo pubblico, popolarissimo, e capace di coglierne però tutte le debolezze, acclamato dal pubblico di cui parlava quando poteva nei suoi film scritti con la sua collaborazione, non c'è dubbio per quanto riguarda le battute, anche se non sono necessariamente le battute scritte da sordi, la capacità di essere allo stesso tempo l'amico di questo gigantesco pubblico che lo seguiva, era uno degli attori in assoluto, come sapete meglio di me, più popolari della storia del nostro cinema, e allo stesso tempo di virgolette insultarlo. E questa è un'altra lettura abbastanza importante. Ce ne sono altre, io non mi farò perdere altro tempo, avrei voluto citarne molto di più, per esempio l'esperienza diretta di Davide Grieco che è qui il mio mister chance 30 anni d'amicizia da Nanni Loi a Mortacci in cui racconta la sua straordinaria vicenda anche personale. E poi c'è anche un capitolo e chiudo sugli amori di sordi, si è tanto raccontato di quanto fosse un tomber de femme o meno, eccetera, però scopriamo leggendo i materiali di sordi che l'unico vero grande amore impossibile della sua vita è stata Silvana Mangano a cui era legatissimo, con cui ha fatto dei film e che vedeva al di fuori dal set e questa altra lettura del privato di sordi fa parte inevitabilmente e giustamente del sordi segreto che abbiamo voluto raccontare in questo numero di Bianco e Nero pubblicato in collaborazione con le edizioni Sabine il cui editore io voglio salutare qui in sala è Casavecchia e Nero. Mi fermo qui e direi subito a Daniele di introdurre la sua parte e poi sarà Verdone a raccontare la propria esperienza poi anticipo che Carlo dovrà a un certo momento se continua il nostro incontro andare via entro le sette mi pare di ricordare non Carlo? E poi Walter concluderà questo discorso non solo da presidente della fondazione Sordi ma da ammiratore amico e sindaco di Roma il giorno in cui Sordi è morto e ricorda nel suo articolo introduttivo nel suo articolo dice non è un saggio questo questa partecipazione incredibile di pubblico che seguì i funerali di Sordi calcolabile ma a spanne in oltre 250.000 persone in San Giovanni in Laterano Anile Allora io innanzitutto come si fa di solito ringrazio perché mi è stato dato questo privilegio di mettere come primo studioso il naso in questi 20.000 documenti per creare questa monografia su Sordi quindi ringrazio il presidente del centro sperimentale Felice per avermi dato questo incarico ringrazio Monica Cipriani e Francesca Angelucci che sono le persone che al centro per anni hanno riordinato questa caterva di cose di scatole di oggetti di fotografie il mio lavoro è stato enormemente aiutato da questo lavoro persistente e poi dalla collaborazione che ho avuto con loro ringrazio Carlo Verdone Walter Veltrone di essere qui molto simpaticamente generosamente a festeggiare questa pubblicazione che io vedo per la prima volta perché è proprio freschissimo di stampa e mi sembra tutto sommato venuto abbastanza bene il titolo che abbiamo scelto è stato appunto Sordi Segreto perché di Sordi si è detto e scritto moltissimo qualcuno dirà fin troppo aspettate il centenario che sarà nel 2020 e vedrete che al troppo non c'è mai una fine quindi la scommessa era di parlarne in modo diverso non contro naturalmente non in modo inutilmente anti o per sorprendere ma fare una specie di festival Alberto Sordi tirando fuori delle cose che tutti noi che abbiamo seguito Sordi che studiamo la storia del cinema volevamo sapere per esempio questo famoso progetto su Kissinger questo famoso progetto sul trombettire di Caster su Benito Mussolini che era veramente stata un'idea assurda da parte di Sordi di creare un film ritratto sul nostro dittatore e naturalmente poi come è normale nessun produttore ha accettato una scommessa folle di questo tipo però poi quando stavo chiudendo questo peso dopo aver cercato mille tracce di questa cosa mi sono ricordato che nel Borgo Rosso Football Club c'è un pezzettino di imitazione di Mussolini che Sordi fa al balcone che è qualcosa di eccezionale ecco quello è tutto quello che rimane di questo sogno veramente assurdo ho chiesto a personaggi anche non immediatamente collegabili con Sordi come Francis Ford Coppola che ci ha dato una mini 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 ricordo di una scena che ha fatto con lui a San Francisco e Arturo Perez Reverte lo scrittore spagnolo di Alatriste che sapevo che era un grande appassionato di Alberto Sordi attraverso il quale ha imparato a conoscere sia la lingua italiana che anche il carattere degli italiani Gianni Amelio e poi Fofi Sanguinetti ci sono moltissime persone ma non sto qui a fare l'imbonitore ci stava per essere anche Carlo Verdone che diciamo non poteva mancare ma poi non ci siamo non ci siamo incrociati non siamo riusciti a diciamo la verità io credo che sia tutta colpa di una di una avuto il consiglio d'amministrazione al centro sperimentale la prima cosa appena ho visto il presidente ho detto felice ma avete fatto sto volume su bianco e nero sono morti tutti gli amici di Sordi sono l'unico che ancora sopravvive dico non mi avete fatto ma guarda che ti abbiamo contattato che io ho fatto a quel punto è iniziata la cosa però vedevo che lui stava male diciamo guarda che ti abbiamo contattato dico ma quando Anila non mi ha mai chiamato in realtà oggi pomeriggio mi ha portato la mail che Anila mi ha mandato a ottobre 29 ottobre che io non ho mai ricevuto ma temare Alberto che ti dicevo di no su Sordi quindi è stata diciamo così un po' una sfortuna quindi mi dispiace magari ci rifaremo no ci rifaremo mi hai parlato di un progetto importante per il futuro allora io fin da adesso farò l'introduzione per quel progetto prossimo che farei lo farò con molto piacere però chiacchieriamo qua va bene uguale comunque complimenti per questo volume perché è un volume veramente molto molto interessante ed è giusto chiamarlo Sordi Segreto perché perché è pieno di oddio è pieno di sì 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 ti lascio sì no perché un paio di cose ancora vorrei dirle sull'importanza anche di parlare di Sordi al di là dei luoghi comuni Sordi attore che naturalmente è stato soprattutto autore anche quando era diretto anzi soprattutto quando era diretto da altri da altri registri si vede che comunque Sordi riesce a essere se stesso grazie a e nonostante il ciò che gli altri gli dicevano di fare ciò che gli altri gli scrivevano di dire Sordi Sordi è da riscoprire da studiare ancora perché Sordi è anche Roma e ci si chiede oggi per esempio cosa penserebbe Sordi di questa nostra città quali personaggi interpreterebbe quali considerazioni cercherebbe di veicolare attraverso un modo di fare cinema che comunque in modo molto folle molto imprevedibile era comunque un cinema morale un cinema che provocava soprattutto all'inizio quando Sordi era il Sordi cattivo su cui per esempio Fofi scrive era un Sordi che cercava di andare oltre l'apparenza non tanto per insegnare o per dire la moraletta che deve aiutare tutti a progredire ma per darci la sferzata giusta e farci andare al di là di quello che è il nostro particolare che sia romano che sia italiano che sia europeo io non credo che Sordi fosse troppo romano troppo italiano Sordi ha avuto le sue difficoltà a farsi comprendere all'estero ma quando veniva compreso uno per essere verte è lì a testimoniarlo o Coppola che da Italo ma anche americano lo capiva benissimo riusciva perfettamente a farsi capire e apprezzare all'estero qui dentro ho voluto inserire un trafiletto persiano da un giornale di Teheran del 1960 in cui si testano le lodi di Alberto Sordi perché diversi film erano arrivati a Teheran era il Teheran dello Shah di Persia era un Teheran un Iran un po' diverso forse dal nostro ma dalla misura anche di quanto Sordi potesse essere compreso e apprezzato anche al di fuori degli stretti limiti tra Steverini in cui qualche volta viene viene ristretto e poi era un provocatore questa cosa qui felice l'autodio stava accennando prima di queste due battute lavoratori nei vitelloni io so io eccetera eccetera nel Marchese del Grillo sono due due battute ogni volta che le vedo credo che succeda a chiunque quando riguardano questi film fanno fare un piccolo sobbalzo io me li sono guardati attentamente ho scoperto che sono entrambe due battute dette insoggettive cioè è lui che sta guardando il pubblico cioè nel momento in cui insulta i lavoratori o l'oste e i poveracci che stanno lì a prendersi gli insulti del Marchese del Grillo insulta anche direttamente lo spettatore lui guarda in macchina in entrambe le occasioni adesso non sono film diretti da sordi quindi sono state decisioni prese da Fellini nel primo caso e da Monicelli nel secondo ma in realtà è esattamente la ricostruzione filologica di quello che era sordi fino a soprattutto al momento dei vitelloni cioè l'attore che sul palcoscenico a teatro saliva e soprattutto insultava il pubblico lo provocava faceva queste assurde imitazioni del del bue dell'aeroplano e cos'era l'altro il bue dell'aeroplano e della gallina che erano delle non imitazioni davanti alle quali la gente rimaneva sconcertata quelle registrazioni televisive che ci sono ancora adesso fatte a spettatori che non lo videro non l'avevano mai visto a teatro non so con Pippo Baudo una serata d'onore degli anni 80 si vede il pubblico ancora oggi sconcertato e sbigottito perché non si capisce cosa stia facendo Sordi Sordi prendeva in giro Sordi provocava cosa che ha continuato a fare anche quando si è occupato di radio quando ha lavorato in radio ha fatto tutto Sordi dalla radio alla televisione al cinema al teatro e uno degli autori dei suoi famosi sketch radiofonici di cui si è occupata Daniela Currone il saggio contenuto nel numero era Ettore Scola un giovanissimo Ettore Scola che collaborava alla scrittura che scriveva era una delle attività principali in quel momento di questi due giovani scatenati e quindi anche lì c'erano una quantità di cose straordinarie in questo senso a un certo punto ho trovato una riflessione di Furio Scarpelli uomo di cinema ma anche persona eccezionale che mi ha un po' svelato questa attitudine strana un po' cattiva tra virgolette di Sordi Scarpelli diceva Sordi non ha mai cercato di conquistare con leccaculismo i propri spettatori si pensa sempre che Sordi era maligno ma non è vero dietro c'era un grande amore per il mondo certo a domanda avrebbe risposto che invece sono tutti stronzi ma dietro questa frase c'era il grandissimo desiderio che non lo fossero e poi lui partecipava allo stronzismo del mondo facendo vedere che cos'era ecco in queste poche parole secondo me sta racchiusa la parte più forte più ancora adesso dirompente e sorprendente di Sordi io una piccola cosa e chiudo la prendo non dal bianco e nero che sarebbe semplice ma da questo aureo libretto di Masolino D'Amico c'è un contiene tra gli altri ritratti uno anche di Sordi una cosa forse che non abbiamo fatto e che avremmo potuto fare era un catalogo degli scherzi di Alberto Sordi cioè come Sordi declinava all'interno della sua vita privata la follia e la provocazione nei confronti del prossimo anche con Siparietti che nessuno ha mai visto se non Anna Magnani Lucchino Visconti Enrico Luccherini quelli che in quel momento gli stavano vicini e qui c'è Masolino D'Amico che racconta di quando verso le due e le tre del mattino insieme ad amici diceva volete sentire delle parolacce poi formava il numero del portiere di Mimì Pecci Blunt che allora era una grande vecchia dama amica anche di musicisti intellettuali Alberto era riuscito a farla venire al telefono a tarda ora e assumendo l'accento di qualcuno dei suoi amici senza ben specificare quale sono io sono Vaimondino ci aveva scambiato varie piacevolezze anche se la ciambella non era uscita fino in fondo da ultimo Mimì che per quanto distratta era anche spiritosa aveva detto senti non mi ricordo chi sei ma continua pure mi sto divertendo in seguito dunque Alberto aveva trovato più fruttuoso svegliare il suo portiere al quale si rivolgeva sempre fingendo di essere l'immaginario Raimondino del Gaizo e cui chiedeva di venirgli ad aprire il portone di chiamare la signora Contessa eccetera a differenza della Contessa il portiere non si divertiva affatto e dopo vari allarmi di questo genere cominciò a reagire con violenza così Alberto si limitava a fare il numero e quando il malcapitato rispondeva dopo moltissimi squilli riusciva a dire semplicemente con voce flautata cavo amico poi sollevava la cornetta e tutti sentivamo l'altro che gridava sei tu stronzo figlio di eccetera eccetera e così via e questo era anche Alberto Sordi grazie 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 Alberto Anile Carlo Verdone che aveva già avviato un po' la sua no no stavo impossessando sì sì no l'occasione stavo impossessando giustamente del suo tempo ma non volevo fare intervento no 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 ma ti prego no no Carlo oggi ne abbiamo un po' parlato sei stato come dire forse più vicino dal punto di vista proprio del cinematografico ti hanno definito anche forse più vicino no più vicino no parlo degli attori parlo degli attori e non degli sceneggiatori io diciamo che ho avuto 15 anni di tempo di 15 anni che l'ho frequentato per 15 anni siamo stati molto molto amici poi ci siamo rivisti in qualche occasione eccetera però 15 15 16 anni ci hanno ci hanno visto insieme come amici che andavano la sera a cena sempre allo stesso ristorante a Puleius sempre lo stesso tavolo sempre ordinare le stesse cose era di una monotonia sta con Alberto Sorri però però lui amava stare con 4, 5, 6 persone non di più c'era c'era Rodolfo Sonego quando gli andava ad uscire c'era Ettore Scola eravamo pochi pochi musicista famoso Piero Piccioni ma non eravamo poche persone frequentava poche persone Sordi in casa era una persona completamente diversa da quello che il pubblico poteva immaginare lo vedeva in pubblico e lui si dava si dava a tutti con quella sua risata contagiosa era espansivo simpatico sempre con la battuta prontissima dentro casa si trasformava in un monaco era una casa austera austera da anche la luce perché io sono andato anche qualche pomeriggio da lui a lavorare più che altro la sera qualche pomeriggio è capitato e le serrande erano abbassate io dicevo ma con tutta caracalla di fronte le cose lui mi ha detto no perché la luce dà fastidio ai quadri che mi rovina e dico vabbè ma che tasa si è comprata a casa dico se non vedi la bellezza di Roma dico questo è il re Spighi gli ho detto sono i pini di Roma dico ma la devi vedere no no Apolloni mi ha detto che se sto quadro mi faceva vedere un quadro enorme pria luce mi si sbiadisce quindi priedisco di no no ma meglio sta ho capito che lui viveva quindi in una completa lui era molto discreto con le sorelle ed era le sorelle erano molto discrete con lui e c'era tanto silenzio era una casa silenziosa è strano dirlo di Alberto Sordi che era un cacciarone nei suoi film ero corroico in casa era un'altra persona un'altra persona io personalmente che cosa non voglio sostituirmi ai critici che hanno detto delle cose giuste belle interessanti però voglio dire una cosa che secondo me è stato sicuramente un attore gigantesco gigantesco perché perché è stato all'inizio della sua carriera assolutamente rivoluzionario ma chi avrebbe mai fatto in quel periodo nel periodo in cui nasceva non solo nel teatro varietà ma anche nei primi film no shake o bianco mamma mia che impressione cioè quei personaggi così fuori dalle regole dell'accademia l'accademia impostava agli attori in un certo modo vedi Mastroianni vedi Gasman vedi cose e poi dopo loro trovavano una verve loro una chiave loro per fare ma sordi in realtà era di un'avanguardia assurda perché era folle chi avrebbe mai fatto quello che ha fatto lui aveva dei tempi di recitazione che erano incredibili non rispettava le pause montava sopra le battute degli altri ripeteva spesso le battute degli altri per ritirarne fuori poi un'altra battuta ha fatto dell'avanguardia era un attore futurista quasi all'inizio veramente poi come tutti i grandi innovatori come tutti i grandi avanguardisti è finito nel conservatorismo proprio più assoluto con gli ultimi film però glielo possiamo concedere ha fatto lo stesso tragitto di Giacomo Balla ha cominciato con la con la pittura dinamica è finito a dipingere le amanti normali sempre bei quadri però la moglie l'amante non lo so io io c'ero uno che suppongo che sia una che sia un amante di balla e si finisce così finisce è il destino vedi anche Charlie Chaplin cosa ha fatto i suoi ultimi film sono dolenti in qualche modo ma probabilmente è anche l'età è nella natura dell'attore finire così è nella natura di tutti nella natura di Fellini nella natura di Orson Welles anche Fellini col silenzio della luna la voce della luna è un Fellini che non capisce più il mondo in cui sta vivendo è un Fellini che fa difficoltà a capire i giovani in una delle rare telefonate che ci siamo fatti nell'ultimo periodo per dieci giorni siamo telefonati la mattina poi lui si è ammalato e non ha avuto più questo privilegio di ascoltarlo siccome io dormivo poco lui dormiva poco quindi mi diceva te posso rompere gli coglioni alle sette io dico ma quando vuoi Federico alle sette va bene io ero in piedi alle sette e c'era sempre un mezz'ora tre quarti d'ora di chiacchierata sul mondo di oggi la stessa cosa la faceva sordi ed entrambi sia Fellini che sordi avevano una grande difficoltà nel capire dove stava andando il mondo dove stava andando la città dove stavano andando i giovani quindi c'era era straziante anche come cosa perché cercavi in qualche modo di spiegarglielo ma era difficile era veramente complicato quindi erano figli di un altro tempo sicuramente di tempi assolutamente per me migliori dal punto di vista delle relazioni dal punto di vista della creatività non che oggi non ci sia però insomma c'erano degli autori dal punto di vista letterario dal punto di vista cinematografico che stavano raccontando una realtà che alla fine con tutte le sue magagne era un po' più seria ecco non che oggi si facciano dei brutti film perché in realtà ci sono anche oggi dei buoni film però quegli anni sono stati forse anni più interessanti più più completi io lo ricorderò sempre come una persona che mi ha voluto veramente molto bene e io ho voluto molto bene a lui ho ricordato prima in un'intervista che quando mi ricordo uscì in viaggio con papà lui fece una proiezione alla Fono Roma la vecchia Fono Roma a Lungotevere di Mellini di fronte a Lungotevere di Mellini vicino a Piazza del Popolo e invitò chiunque c'era tanta gente importante era la sala grande io dentro di me e dissi dai madonna mia non oso pensare a quello che ha tagliato quindi mi ero preparato al peggio però ho detto è Sordi quindi invece con mio grande stupore Sordi non aveva tagliato niente di quello che ho fatto io se era tagliato lui alcune cose io sono rimasto veramente a bocca aperta ha detto è quella scena in cui lui fa quella cosa non c'è più quell'altra non c'è più quell'altra che mi piaceva pure che era divertente e che cosa diceva la tagliata alla fine mi aveva lasciato tutto intero l'ho capito la grande generosità di quest'uomo che faceva il tifo per un giovane attore qual ero io nel 1982 e voleva in qualche modo esaltarlo e questa cosa mi ha colpito tantissimo mi ha colpito tanto perché insomma Sordi è sempre passato con una persona molto cinica molto io non lo so con me a parte il fatto che con tutti l'ho sempre visto ogni tanto simpaticamente cattivo però era una persona molto generosa guardate ha fatto tanto bene nel privato senza dirlo oltre le cose ne sappiamo tante io e Walter che sono usciti fuori nei documenti ha guadagnato tanto veramente tanto però ha dato anche veramente tanto quindi io lo ricorderò sempre per tornare al discorso di prima con una persona molto generosa molto molto affettuosa nei miei confronti avrò sempre per lui un'immensa stima perché io devo a lui il fatto che se sono diventato attore è stato grazie ai cineclub film studio cineclub tevere l'occhio l'orecchio e la bocca che ogni tanto facevano delle monografie su grandi attori o su dei registi italiani e non e là che io ho conosciuto i primi film di sordi e là che io mi sono innamorato di questo attore e là che mi sono innamorato della commedia all'italiana quindi è stato è stato veramente un grande attore sono stato fortunato nell'averlo conosciuto è stato un mio fan io chiaramente sono stato un suo super fan non muoverà mai Alberto Sordi perché è una maschera e come tutte le maschere sono immortali l'ho sempre considerato così per questo dirò sempre non dite a solita domanda fate la solita domanda sei l'erede di Alberto la risposta è no non posso essere l'erede di una maschera e poi siamo così diversi lui ha raccontato meravigliosamente con il suo occhio con la sua sensibilità il suo tempo i difetti i tic di quel momento io ho raccontato altre cose sicuramente i suoi tempi erano molto più importanti dei miei perché lui ha fatto la guerra il dopoguerra la ricostruzione gli anni delle tensioni sociali studentesche eccetera insomma ha attraversato un periodo storico enorme io ho attraversato invece dei traumi all'interno delle relazioni questa è la grande differenza all'interno della famiglia della coppia la solitudine il vuoto quindi ecco perché comicità e malinconia nei miei e nei film di qualcuno altro per questo per questo quindi che dire io lo ricorderò voglio ricordarlo su una cosa veramente bellissima mia madre stava molto male nel 1984 ma stava veramente erano quattro anni che stava male e forse ha avuto la malattia neurologica più brutta del mondo che va oltre la SLA cioè malattia peggiore e non ne poteva capitare Alberto lo sapeva e sapeva quanto faticavo anche a lavorare in quegli anni ho prodotto molto però sempre con molto dolore la sera tornando a casa perché mi informavo dalla mia famiglia sullo stato di mamma le cose peggioravano e stava distruggendo pure il tessuto familiare una sera mia madre che non capiva più niente nel 1984 a un certo punto ebbe un attimo di lucidità mi disse interpretai quello che stava dicendo perché lo diceva male poverina mi piacerebbe tanto salutare Alberto Sordi io per mia madre avrei fatto qualsiasi cosa mi sembrava una cosa molto complicata dirla ad Alberto perché era molto impressionabile lui era molto 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 quando vedeva e mia madre francamente pesava 39 kg non era un bel vedere allora era su una serie a rotelle e io dico ci provo io ci provo allora gli dissi Alberto senti tu con molta libertà mi puoi dire di no guarda ti capisco al volo perché mi rendo conto figurate mia madre in un momento di sparuta lucidità io usci da fuori questa battuta mi piacerebbe tanto salutare Alberto Sordi io te lo dico però però carlì qual è il problema vengo mi dico ma stai 5 minuti ma non ti preoccupare ma veramente vieni ma vengo sì ma te pare che a mamma gli dico che no io allora avvisai mio padre papà disse ma come facciamo a tavola lei deve essere imboccata c'è il sondino che cena viene papà viene 5 minuti dico gli vieni a dare un bacio speriamo che mamma se lo ricordi perché mi hai avuto un'idea sbagliata perché vedi non ti preoccupare facciamola contenta ha chiesto così alle 8 e mezza è arrivato Sordi da solo è venuto ha detto ah beh non avrei una bella non ti preoccupare è entrato in camera in camera da pranzo si è chinato l'ha baciata e gli ho detto mamma questo è Alberto Sordi ho visto la mano di mia madre tutta tremante che lo prendeva lo stringeva forte e Sordi l'ha baciata in testa sui capelli poi gli sono venute le lacrime assurdi perché non si immaginava chiaramente che lo stato era quello è rimasto 20 minuti all'incirca ha cercato anche di essere un po' spiritoso con fatica cioè raccontando delle cose alla fine ho capito gli ho detto Alberto grazie non ti preoccupare batta a fare la cena fuori tranquillo hai fatto già una cosa enorme ma io mangio pure dico Alberto grazie e lui è andato via e l'ho ringraziato tanto ecco quel gesto è un gesto che noi a casa ricorderemo sempre con enorme enorme affetto perché nessuna amica di mia madre voleva venirla a trovare perché non voleva vederla che pesava 39 kg Sordi è venuto la conosceva benissimo gli voleva un bene dell'anima era stato a scuola da lei al Giulio Romano come ospite lei ha fatto vedere a tutti gli studenti era diventata la famosa professoressa che ha portato Alberto Sordi ecco Sordi ha fatto questa cosa quindi ho voluto ricordare l'umanità di questo di questo di questo grande attore e di questo grande uomo e di questo grande amico ti ringrazio Carlo ti ringrazio a nome proprio di tutti noi prima di sentire Walter Veltroni vorrei ricordare altro materiale che naturalmente non può essere documentato perché parlo di immagini ma è raccontato in questo lavoro contenuto nel volume c'è un altro Sordi segreto che l'ultima serie la quinta della famosa faceva un cenno a questo Carlo la storia di Sordi è la storia di un italiano è la storia d'Italia c'è una quinta serie realizzata da Sordi nel periodo in cui stava già male erano andate in onda con un enorme successo tra l'altro su Rai le prime quattro stagioni si chiamerebbero oggi pensando alle serie la quinta non è mai stata programmata non è mai stata vista ci sono 37 puntate inedite ecco una parte del Sordi segreto mai visto che sono depositate presso la Cineteca Nazionale e sono le puntate della quinta stagione di storia di un italiano che Rai rifiutò di realizzare perché c'era un problema di diritti delle immagini dei film che Sordi impiegava per raccontare all'Italia ma qual'era l'ambizione di Sordi permettetemi un ricordo personale perché lo producevamo come io allora il presidente di Cinecittà Holding e ci impegniamo come Holding come Cinecittà a produrglielo questo materiale e Sordi veniva ogni settimana il venerdì a dire come un a dire quello che aveva fatto nella settimana che era appena trascorsa insieme alla sua montatrice storica montando appunto 37 puntate di questa serie sperava però ecco questo è l'altro aspetto importante che mi raccontava e sperava che il ministro della pubblica istruzione a cui aveva scritto più volte avrebbe accettato l'idea che le cinque serie compresa l'ultima mai andata in onda appunto potessero costituire una sorta di libro di testo audiovisivo per sostituire o per aggiungersi ai libri di storia di questo paese l'ambizione di Alberto e la convinzione intima era anche quella di aver costruito attraverso queste questi questi tanti pezzi di storia appunto le cinque stagioni di aver costruito la storia di questo paese con i film che aveva interpretato il progetto non è mai andato in porto né per la prima parte le prime quattro puntate neppure soprattutto per l'ultima e dunque comunque è un tesoro inestimabile è un sordi segreto che non potrà mai essere proiettato perché c'è sempre ancora oggi ovviamente un problema di diritti di costosissimi diritti che vengono in parte sì in parte no pretesi dagli aventi diritto che non permettono la presentazione se non per gli studiosi all'interno della Cineteca Nazionale possono passare i materiali attraverso i monitor di questa di quest'altro formidabile fondo questa volta audiovisivo del lavoro di archivista chiamiamolo così di Alberto Sordi che era oltre che questo grande uomo e questo grande attore anche un formidabile archivista e forse Walter sa anche che era straordinario era un mecenate conosce bene la storia e questo forse ce la racconti tu Walter sì io qualche anno fa sono andato in una scuola in Puglia a presentare un libro nel quale ho raccontato i miei padri mio padre e Alberto erano molto amici hanno cominciato insieme scrivevano insieme con Ettore Mario Pio il Conte Claro e io uno dei primi ricordi che ho di Alberto è la fotografia che guardavo da bambino di Alberto ai funerali mio padre si svolsero poco lontano da qui alla chiesa di Santa Teresa Davila quindi quando ho scritto questo libro su mio padre a un certo punto è comparso Alberto e soprattutto per gli scherzi che facevano insieme ai quali Alberto ha fatto riferimento quando parlavo del libro a un certo punto ho parlato di Alberto Sordi ai ragazzi ho avvertito nella sala come un imbarazzo allora mi sono fermato e ho chiesto scusate facciamo un test chi di voi sa chi è Alberto Sordi erano ragazzi del terzo liceo saranno stati 400 ragazzi gli ho chiesto di essere onesti di dirlo tanto non è che andava nel curriculum scolastico avranno risposto di sì 70 80 su 400 allora poi se uno ci pensa è normale nel senso che voi andate sulle piattaforme e cercate i film di Alberto Sordi ne trovate pochissimi pochissimi la televisione non li programma più convinti come sono che valgano solamente un certo tipo di offerta e non altro Alberto è sparito è paradossale perché lui è stato l'attore italiano l'attore italiano quello che come si dice ha incarnato nella maniera migliore possibile ciò che l'italiano era e questa sparizione è qualcosa contro la quale bisogna combattere e quindi noi cercheremo non solo questo volume bianco e nero che il centro sperimentale Felice Alberto Crespi Alberto Anile hanno voluto dedicare ad Alberto ma tutte le cose che riusciremo a fare in occasione dell'anniversario della sua nascita nel 2020 saranno esattamente rivolte a questo ricostruire il gusto ecco perché dire la memoria nel caso di Alberto è quasi blasfemo perché Alberto è da gusto chi non conosce Sordi ha perso molto della vita e non è che Sordi era divertente allora perché ci sono dei comici che tu li vedi oggi e non ti fanno ridere mi vengono in mente dei nomi ma non li faccio Sordi lo vedi oggi ed è ancora assolutamente straordinario proprio in quello che diceva Carlo Carlo ha accolto un elemento di Sordi che non sempre è stato sottolineato il suo carattere dadaista era uno che sovvertiva i linguaggi noi siamo abituati a considerare Sordi essendo stati educati a certi codici comici nei quali la trasgressione fantastica era normale ma noi dobbiamo immaginare che cos'era il linguaggio di Sordi la comicità di Sordi nell'Italia a bacchettona degli anni 50 dobbiamo immaginare che cosa è stato quando è arrivato un americano a Roma un giorno in pretura mamma mia che impressione cioè lui sembrava un pazzo ed era un genio come spesso succede ai geni di sembrare dei pazzi c'è un racconto che mi fece una volta io sono pazzo per un personaggio di Alberto che è Anselmo Pandolfini per i meno malati Anselmo Pandolfini è il protagonista di Brevi Amori a Palma di Mallorca ed è un imprenditore zoppetto con un cappello con la falda tirata sulla sulla testa grande conquistatore di donne e del tutto privo di qualsiasi senso del limite del pudore è uno che si infila dappertutto e che è convinto nonostante diciamo quello che potrebbe apparire un elemento privativo di questa possibilità di poter conquistare qualsiasi donna l'attrice era Belinda Lee e lui nella finzione ma credo non solo nella finzione si era convinto di poterla conquistare per cui si infila dappertutto a un certo punto finisce perché questa Belinda Lee è nel film una grande attrice americana e lui si infila a casa di questa attrice americana con una spavalderia del tutto inopinata a un certo punto squilla il telefono lui risponde al telefono perché fa come se fosse a casa sua e dall'altra parte c'è Gary Cooper e allora Sordi fa anzi Anselmo Pandolfini mi fa chi sei? Ah Gary Cooper Hello Gary ho visto il tuo ultimo film discreto ora dire a Gary Cooper che un film è discreto devi essere un genio e lui mi raccontò che questo personaggio lui l'aveva preso una volta che stava a Ischia o a Capri a un certo punto arrivò un grande yacht dal quale scesero una quantità infinita di belle donne il che richiamò la sua attenzione e si chiesero tutti chi ci fosse non so Porfirio Rubirosa e alla fine di questa processione di belle donne scese questo che poi era un imprenditore non so chi con questa diciamo caratteristica e lui da lì ci ha fatto un personaggio che rimane ne parliamo oggi Sordi ha inventato quasi tutto compreso una lingua sì perché si dice c'è Trilussa Belli sì quello che si vuole ma il romano moderno in questo sì Carlo è erede perché Carlo ha sviluppato meravigliosamente questa lingua perché di una lingua si tratta il romano moderno l'ha inventato Alberto Sordi certo lui aveva dentro queste radici però Sordi ha inventato i tempi del romanesco cioè per esempio una cosa che a me di Sordi è sempre piaciuta è che lui rifaceva le domande tu gli facevi non so chi sei e chi sono no che era un modo per prendere tempo e al tempo stesso per e e poi anche lì l'elemento di di follia che c'era in lui anche applicata alla lingua lui era evidentemente immerso nella storia di questa città che poi non per caso lo saluterà nel modo in cui ricordiamo a San Giovanni c'è un suo film meraviglioso poco conosciuto che si chiama Accadda al penitenziario nel quale lui ubriaco alla fine finisce con l'essere praticamente complice di un furto di pezze di stoffa dalle parti di piazza Venezia viene portato in galera e viene interrogato si era ripreso viene interrogato da un commissario anzi da un vice commissario e lui distrugge questo povero disgraziato per il fatto che è vice e dice scusi lei chi è? mi chiami il commissario lui è l'imputato dice beh lei è vice quando l'ha presa a laurea in tempo di guerra la davano a tutti quindi l'ha presa la laurea va avanti così poi alla fine questo lo caccia giustamente dalla stanza lui fa per andare via poi si ferma torna indietro si divincola dai poliziotti dice lei vuol sapere perché lei non mi può condannare perché non mi può mandare in galera perché dice quello mette una mano in tasca e poi fa così mette indietro la mano come faceva lui non c'era niente sulla mano e fa ho dato il cappotto al Polesine che per lui era il salvacondotto cioè avendo dato il cappotto al Polesine non poteva essere perseguitato e io mi ricordo una volta a proposito di storia di un italiano me l'hai fatta venire in mente storia di un italiano come diciamo produttrice Rai lo fece mia madre perché appunto fu essendo amica di famiglia di sordi la Rai gli chiese Massimo Fichera che era il direttore di Rai 2 gli chiese di seguire questo progetto per festeggiarlo andammo a pranzo nel ristorante che Carlo ha appena citato io ero ragazzino e come tutti i ragazzini fece la domanda che non dovevo fare a un certo punto gli chiesi guarda perché io ero già maniaco gli chiesi scusa Alberto ma tu durante la guerra che facevi? e che facevo? insomma dopo poco si venne a capire che lui si era previa raccomandazione fatto arruolare nella banda musicale dell'esercito ora a me già l'idea di Alberto sordi nella banda durante la guerra cioè non è che e allora ho fatto la seconda domanda che non dovevo fare gli ho chiesto a che strumento suonavi? a che strumento suonavo? il triangolo allora l'idea che Alberto mentre c'erano i bombardamenti succedeva di tutto stesse lì perché era l'unica cosa che poteva suonare senza far danni evidentemente suonasse il triangolo c'era c'era tutto Alberto ma di Alberto ci sono delle storie meravigliose lui stava con Andreina Pagnani grande attrice che però non lo faceva mai andare in società perché faceva un casino ogni volta che usciva faceva scherzi eccetera una volta lo porta in un ricevimento dove c'era della gente che evidentemente era utile per il suo lavoro però gli dice mi raccomando non fare disastri quando me lo raccontò mi disse sai io ero impegnato poi sono entrato e ho visto il vecchio Rizzoli tutto lo ricorderai che era bello tondo e ci aveva gli occhi molto estroflessi diciamo così ci aveva gli occhi abbastanza fuori dalle orbite e dice che questo qui che era il produttore più importante in Italia in quel momento della Cineriz si era tolto gli occhiali era vestita non so aveva la maschera di quelle veneziane eccetera quindi la scena era già abbastanza imbarazzante e si massaggiava gli occhi con il dito era evidentemente stanco quindi aveva tolto gli occhiali e stava lì dice io non ci ho visto più gli sono andato dietro gli ho messo due dita sugli occhi ho spinto ho fatto chi sono io chi sono io e dice questo ha mollato una bestemmia la festa è finita lì ma ce ne sono a valanga di queste lui era veramente un ira di Dio cioè era un comico è vero quello che dice Carlo cioè a casa sua c'era un silenzio però negli anni dei quali parliamo lui era un ira di Dio nella vita non solo a parte faceva otto film insieme girava da un set all'altro e in tutti se voi lo vedete è energia pura è energia iconoclasta è capacità di fotografare il proprio tempo è assunzione dei tic del proprio tempo è cambiamento del linguaggio come dicevamo e poi è un grande attore perché ora abbiamo citato tutti quanti i film ma Alberto è anche quello di un borghese piccolo piccolo è anche quello di una vita difficile cioè è anche un grande attore drammatico tragico era ed era difficile per uno che aveva una maschera così forte come la sua riuscire ad essere credibile facendo un padre che cerca l'assassino di proprio figlio il povero Vincenzo Crocitti questo era Alberto la cosa strana quando facemmo i funerali in Campidoglio la camera ardente è che noi mettemmo su uno schermo con Massimo Chini ce lo ricordiamo sempre perché lo vivemmo insieme in quel momento noi mettemmo uno schermo sul quale scorrevano le immagini di Sordi e la gente che veniva lì e piangeva perché Sordi per questa città è stato qualcosa di molto importante e mi auguro lo sia ancora la gente piangeva poi passava lì si fermava e rideva ed erano le due dimensioni della vita di Alberto perché Alberto è riuscito a commuovere quando faceva le parti tragiche e ovviamente è riuscito a ridere io ricordo una sera mi ricordo la data perché era il 10 settembre del 2001 e quindi è ovvio perché me la ricordo perché poi una mattina dopo sarebbe successo quello che ricordiamo venero a cena a casa mia Alberto e Ettore Scola per la prima volta ebbi la sensazione l'avevo già avuta un po' quando era andato sul set del romanzo di un giovane povero di Alberto che è girato da Ettore Scola con Alberto che Alberto avesse qualcosa che gli fosse spento qualcosa dentro perché perché per un uomo che ha fatto dell'energia la sua vita a un certo punto il perdere la possibilità di manifestare quell'energia era una privazione spaventosa se Carlo potesse raccontare in viaggio con papà e tutto quello che c'è intorno una volta lui ha raccontato a Domenica Inn lo scherzo che gli fece Alberto quando lo lasciò nudo dove stavate a Castiglioncello dove stavate a Puntala lo lasciò nudo e lui dovete attraversare mezza Puntala nudo ma Davide Greco che è qui potrebbe raccontare la meravigliosa una delle cose più belle di Alberto è un convegno che lui fece al teatro dell'Ateneo dell'Università io ho visto le immagini e a un certo punto prese la parola uno di questi intellettuali che davano del suo cinema una lettura per lui del tutto incomprensibile e lui fa una faccia senza dire una parola alza le sopracciglia come faceva come ti guarda questo che Casita sta dicendo che vale da sola quando Alberto ha perso questa energia negli ultimi anni faceva fatica faceva fatica si era un po' intristito tanto che per esempio lui quando nell'ultimo periodo si parlava di lui era quasi infastidito perché voleva in qualche modo che restasse quell'Alberto per questo si Felice ha ragione era un uomo molto generoso poi quando lui morì con la sorella noi facemmo praticamente una scuola intera in Africa con una donazione di Alberto ma lui ha fatto il campus biomedico ha fatto tantissime cose tutta la parte anche romana cioè insomma lui era da questo punto di vista veramente molto legato alla sua città e per cui ecco cerchiamo tutti quanti insieme di fare in modo che uno dei pezzi migliori dell'Italia del Novecento siccome è un periodo in cui si tende a perdere un po' il meglio della nostra storia venga salvaguardato è veramente un'ultima cosa in Alberto si vede la fatica la fatica polvere di stelle è il racconto della sua fatica lui ha come si dice calcato le tavole del palcoscenico e ha imparato il rapporto col pubblico lì l'apprendistato come Totò come tanti altri l'apprendistato che hanno fatto loro e che ha fatto anche Carlo perché Carlo ha cominciato all'alberichino non è che è nato imparato come si dice nonostante venisse da una famiglia in cui il cinema era pane quotidiano quando c'è la fatica in un attore o in un autore si vede si vede e la fatica risarcisce la fatica è esperienza e conoscenza e sapere e Alberto Sordi è stato nella sua grandezza anche il prodotto di questa fatica perché fatica e grandezza vorrei che non ce lo dimenticassimo in questo tempo storico sono sorelle inseparabili Carlo deve andare lo saluto ma abbiamo finito anche noi volevo solo ringraziando Verdone grazie a tutti voi a te ma abbiamo finito anche noi però mi ha offerto il pretesto Walter con le ultime cose che diceva di ricordare che la Cineteca Nazionale sta lavorando al restauro in queste settimane proprio di scusami facciamo passare la suspense aumenta grazie a tutti